4-4, la sala operativa, passo 4-4 avanti Allora, qui i sanitari mi dicono che loro non l'hanno richiesta però io ho ricevuto quell'ordine di portarmi per la persona bloccata al pilone inizio del basamento del fiume bom L'operazione si sta effettuando, quindi stiamo dando supporto anche da terra e sono già sul posto quindi lasciamo tutto così, passo Capo ricevuto, passo e chiudo Signora, mi sente? Signora, mi sente? Quanto è presto? E tu siete? Sì No, guarda 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 Grazie. Franci! Franci! All'operativa per 148, parto. Avanti, all'operativa da 148, parto. Sì. Il gruppo del sanitari vi chiede se questi volontari che avevano richiesto prima sono già usciti. Sì. Io non ho tutta questa comunicazione. Sei qualcosa? All'operativa, mi confermo che i primi volontari che sono stati richiesti dal porto dell'incidente sono tutti pollizionati già. Ce lo confermo io. Passo e chiudo. Appa ricevuto, passo e chiudo. Sbagliato il giro fune. Ho sbagliato il giro fune. Ho sbagliato il giro fune. Sbagliato il giro fune. Il Pablo, ha la radio? Ho solo LPD? Dica risponde al telefono che lo sto chiamando Non rispondo Io il prossimo anno Vorrei farla mista di qua e di là sfruttando il combi cambia Ho inoltre bisogno di sapere quanti mezzi sono usciti per la ricerca dei dispersi Passo Ma! Hai un'altra? No, quando scendi un po' da così per me è un'emergenza solo che lui è sbagliato a fare l'inverno sul del freno pensando che va a questa molinica della barca ossigeno all'acqua non è che è l'atto che ne vediamo ị' Uso il pesci in mano anche se va in mezzo un brano Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Vai.